Ha iniziato a squillare 30 anni fa il Telefono Rose, da quel momento non ha mai smesso, era lontano 1988. Tutto nasce dall'impegno di alcune volontarie animate dall'intento di voler far emergere il fenomeno sommerso della violenza domestica. Oggi Telefono Rose è una realtà consolidata in tutta Italia in difesa di donne minori, a dirlo sono i numeri. Basti pensare che nel 2018 sono state 5.112 le richieste d'aiuto. Una volta che vengono qui cerchiamo di illustrare loro qual è il percorso che dovranno affrontare se denunciano specialmente una denuncia di carattere penale e soprattutto se ci sono dei bambini minorenni, dei figli. La donna cerchiamo ovviamente di non spaventarla ma di renderla sicura, di farle sapere che non è sola perché purtroppo il violento, la prima azione che fa è quella di isolarla e questa donna non ha più dei punti di riferimento, quindi siamo noi che dobbiamo dare di nuovo a lei questi punti di riferimento e fiducia in se stessa. La donna con noi inizia un percorso sia dal punto di vista legale, perché avrà sia il civilista che il penalista a sua disposizione e poi cerchiamo di aiutarla anche psicologicamente. Abbiamo visto che i gruppi di autoaiuto che vengono organizzati qui all'interno del Telefono Rosa danno alla donna una grossa possibilità di riprendersi la sua personalità. Una storia lunga 30 anni raccontata in un libro che è stato presentato ieri alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità Vincenzo Spadafora. Io sarei una donna felice se questo libro fosse all'interno delle scuole, perché non è, come ho detto prima, solo la storia del Telefono Rosa, ma è la storia di 30 anni della nostra società, di come le donne si sono rimbucate le maniche e hanno lottato per ottenere certi diritti. Quali erano le richieste che vi arrivavano 30 anni fa e quali sono quelle che vi arrivano oggi? Sono cambiate? Certamente. La donna all'epoca addirittura non riconosceva la violenza. Io ricordo sempre durante un colloquio che alla fine la donna parlando, proprio mi è venuto spontaneo, chiedevo ma per caso suo marito ha alzato le mani, beh va bene, mi ha dato uno schiaffo. Ecco, c'era proprio questa mancanza di percezione che la violenza potesse essere anche uno schiaffo. Un numero attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, rivolta alle vittime di abusi, discriminazioni e stalking. Sempre più donne oggi trovano la forza di denunciare, ma la strada è ancora in salita. Ecco perché non basta gioire per i traguardi raggiunti, perché le sfide che Telefono Rosa vuole ancora vincere sono tante. Questi 30 anni di lotta ma anche di aiuto alle altre donne hanno consentito di arrivare a certi traguardi. Vogliamo parlare del 96 della legge contro la violenza sessuale che è stata trasformata. Vogliamo parlare nel 2002 dell'allontanamento del violento, vogliamo parlare dello stalking. Tanti sono le leggi che sono state fatte a favore delle donne. Io credo che in Italia abbiamo una delle legislazioni più avanzate per quanto riguarda proprio l'aiuto alle donne. Ultimo nato è il fondo per aiutare i ragazzi orfani a causa dei tanti femminicidi che purtroppo si sono registrati in questi ultimi anni. Secondo Telefono Rosa, la violenza sulle donne è il vero grande allarme sicurezza in Italia. Il fenomeno tra l'altro è sempre più diffuso tra i giovani, cala l'età delle vittime di violenza e di chi la compie. Un problema che va affrontato fin dalla prima infanzia a partire dall'educazione nelle scuole. Noi i 12 anni che facciamo un progetto bellissimo che è le donne, un filo che unisce, un due culture diverse. Inizia il 25 novembre e termina l'8 marzo. Però tra i due eventi clou, le nostre psicologhe e le nostre avvocate vanno nelle classi che sono state scelte per partecipare a questo progetto e parlano con i ragazzi. Una volta a settimana la classe scelta va in una nostra casa rifugio e passa mezza giornata con i bambini e con le donne. È una lezione per i ragazzi indimenticabile, veramente indimenticabile.